Nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Chieti che ha portato a 5 misure cautelari con 18 persone indagate nell'ambito della gestione dell'Università Telematica Da Vinci, questa mattina i vertici dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti-Pescara hanno illustrato la posizione dell'Ateneo spiegando che sono già al lavoro i legali per quantificare il danno patrimoniale di immagine subito. La D'Annunzio inoltre è pronta a costituirsi parte civile in un eventuale procedimento giudiziario. L'Università si è già mossa abbastanza come risanamento dell'Università Telematica, sono stati nominati nuovi organismi dirigenziali dell'Università Telematica, quindi avrà due obiettivi. Uno, il risanamento dei conti con la conseguente azione legale verso chi ha determinato una gestione piuttosto inconsueta, devo dire. Dall'altro il piano di rilancio dell'Università sul quale già stavamo lavorando e che prevederà assolutamente un rilancio di molti corsi di laurea nuovi e soprattutto del post laurea e dei corsi ECM per le aziende e quant'altro possa fare l'Università Telematica. La stiamo dotando di una nuova sede, di nuovo personale e di nuove attrezzature per poter svolgere meglio il rilancio della telematica in questo momento. Il danno d'immagine ovviamente noi stiamo valutando perché è una notizia di ieri, ormai è uscita sui giornali da ieri e noi stavamo preparando il danno patrimoniale. Adesso valuteremo anche il danno d'immagine che è sicuramente importante. I conti, non abbiamo potuto fare completamente i conti perché l'Università Telematica ha bilanci non approvati dal 2016 se non mi sbaglio. Quindi siamo in una condizione che da un punto di vista dei bilanci, da un punto di vista finanziario, è sfuggita al controllo nel periodo che ha visto governare il partner istituzionale. Quindi diciamo noi non abbiamo grande facilità al controllo dei conti. Abbiamo delegato, abbiamo chiesto una due diligence a un istituto di documentazione che fa questo. In realtà abbiamo preso il ranking mondiale, abbiamo preso il primo, KPMG, abbiamo chiesto questa consulenza proprio per poter capire che cosa fosse accaduto anche in assenza di bilanci approvati. Attenzione, approvati, l'ultimo approvato addirittura con il parere negativo dei revisori dei conti. Quindi ci troviamo di fronte ad una situazione veramente difficile dal punto di vista economico e finanziario. Grazie a tutti.